Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Nel fine settimana è in programma la giornata mondiale dei bambini con l'incontro tra Papa Francesco e 70.000 tra bambine e bambini. Oggi è previsto un primo evento allo Stadio Olimpico, domani a San Pietro. Le chiusure al traffico e le modifiche per i bus sono su romamobilita.it. Per la giornata di domani è anche previsto il potenziamento della metro A.